Ben ritrovati a tutti da Stefania Cattaneo di Trebimeteo per questo aggiornamento previsionale. Vi ricordo che potete restare informati con le previsioni di Trebimeteo anche scaricando l'app smartphone e tablet. Giovedì in Europa, freddo e neve nel nord-est dell'Europa andrà decisamente meglio nell'Europa centro-occidentale con queste maggiori aperture e alta pressione. Entrando nel dettaglio della nostra penisola, fenomeni anche a carattere temporalesco al sud, come vedete che si estenderanno anche al medio versante adriatico e alla Sardegna, mentre al nord andrà decisamente meglio con prevalenza di sole. Entriamo proprio nel dettaglio del nord Italia, cieli sereni o poco nuvolosi sin dal mattino con ampie schiarite. Abbiamo soltanto della residua variabilità sul nord-ovest con qualche residuo fenomeno che andrà via via esaurendosi entro sera. Al centro tempo instabile sulle regioni adriatiche con questi acquazzoni sparsi per gran parte della giornata, anche della neve lungo la dorsale appenninica però oltre 1000-1300 metri, mentre nelle regioni tirreniche andrà meglio però anche qui entro sera arriverà qualche acquazzone. Infine al sud, un brano da tenere a portata di mano per tutto il giorno, come vi anticipavo, ploggi temporali localmente anche intensi, neve dai 1000 metri e instabilità anche sulla Sardegna. Per il momento è tutto, vi invito a restare aggiornati con noi sull'app di Tradimeteo. Grazie. Grazie. Grazie.